bella a tutti ragazzi benvenuti dal vostro sciolto francesco al vostro e dal vostro giuliettino la in fondo siamo arrivati qui piano piano correndo come piace a giulio soprattutto d'estate tantissimo a milano corriamo proprio come dei pazzi comunque in realtà c'è sta roba dovete un po cercare di vedere dove andare non è così difficile nel senso individuare gli spot l'unico problema è che dovete correre dritti dritti perché se sbagliate siete morti per esempio qua io non sono molto confident dobbiamo arrivare di là secondo me dobbiamo arrivare lassù in cima non so se vedi sì sì però partendo da qua ecco ovviamente le zone dovete arrivare sono quelle di verde però prendete attraversando qua morite di sicuro più o meno quindi devi correre dritto però sì cioè non è che non ce la fate però dovete correre dritto perché se perdete appena appena un po di tempo crepate esatto dai che ci siamo quasi giulio sei confident direi che ci siamo e basta io però aspetto a parlare perché devo sentire da non cadere in modo strano bene ma in tutto questo non abbiamo la compagnia del bond and the lion pure giulio no al posto sottacco no però stai morendo e te lo dico nel caso si ma lui non nuota più rapido di questo vabbè l'importante che sia qua vicino e non mi rompa il cazzo meno questo va bene e forse arriviamo dove siamo arrivati cerchè il passaggio successivo invece no oddio beato te oddio un cazzo spaccalo use noise si ma c'è un altro pipe giulio qui è come prima è sì solo col freddo di nasconderti dove non vedi la neve cazzo non è il termine forse di a destra ma possiamo meditare no ma perché non possiamo meditare quindi non hai tempo però da perdere tempo il problema è dove dove cazzo è sto posto non te lo dici ancora è la no quello è un faro se lo dovrebbe dire se è il portale però adesso vediamo dove nasconderci la prossima volta di davanti puoi no qui qui si comunque deve andare verso il faro immagino e allora corro ovviamente non c'è neanche un eh vabbè era sbagliato eh ma come fai a sapere ci conviene a tagliare comunque un'altra domanda scappiamo di qua vai giulio non mi sono avuto bravo ok buono qui qui buono e qui possiamo salvare oh forse abbiamo una speranza ora scendi senza morire che abbiamo appena salvato ma scendiamo senza morire ma prima non raccogliamo questo cuoio conciato e che cazzo dai facciamoci uccidere non ci sta ah 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 beh a te facciamo un pochino più fresco. Ma in vacanza o? No, lavoro. Lo so, lo so. Io lo so, però. C'è un modo di scendere senza morire secondo te. Facciamo l'equilibrista. Giusto, che col ghiaccio è proprio la morte sua. Ah, fin qua ci siamo arrivati, no, Giulio? Sì. E tu dici, qua scendere dovrebbe essere possibile. Oppure andare su questo grumo di neve. Di naeve. Ovviamente, cosa altro? Mazzati questi cani. Questo mi sto facendo male, cioè relativamente lì. Però non aveva paura, tanto. E' un mazzo in due spadate. Cosa è successo? Vediamo se mi dà della carne da mangiare. Dai! Carne putrefatta, ottima. Beh, da mangiare è la morte sua, eh? Eh, si comincia a mangiare a proposito. Non si sa mai. Mamma mia, bontà divina. Carbone! Ottimo carbone. Sì, attento che se parte la neve sono cazzi, eh? Ancora. Bravo, fra di casa in casa, così si fa. Il problema è... Ah, questo è proprio solo per fermarsi, mi sa. Mangiamo carne putrefatta, vediamo se... Ma hai già mangiato qualcosa? Eh, ma mangiamo di più. Tipo, allora... Allora, dov'è la carne putrefatta? Ce l'ho rimosso, ma questo qui lo possiamo mangiare? Beh, io qui, non credo. No, 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 no. Pensa che non è qui la roba. Qui è alchimia creazione oggetti. Carne putrefatta. Allora, si può vendere ai mercanti o smontare per recuperarmi i pezzi. Dai, smontiamo allora. Perfai smontarlo. Una domanda, eh? Perfai smontare. Non mi dia. Giulio, sono un po' basito, non so... Eh, intanto devi... Devi uscire e andare avanti, fra c'è poco da rimanere basiti. Ancora. Eh, eh, eh. Vai, prego. Devi trovare la strada, non ci può godare. Lì, 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 lì. Scendi, tanto. Mi sto chiedendo... Là! C'è una... Passi dietro? C'è una finetta. Dai, che mi sapevo della carne. È possibile che non ci sia carne? Cotone? Puoi scendere. Ok. Quanto siamo avanti? Filo, 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 filo. Cazzo, Giulio, possiamo veramente metterci a fare... Agro e filo. Agro e filo. L'ottimo cucito. Questo è buono, eh? Beh, ti torna tutta la vita. È il fuoco. Fire is the answer. Dobbiamo andare là, vedi? Con la porta, vai. Oh, 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 sembra un porno. Quindi sono quasi staccato le orecchie. Ce la faremo, Giulio, secondo te? Io voglio... Voglio avere il mio violone sul... Se per te ce la faremo. Cioè, ce la faremo, ma... Che sbatti, però, ecco. È tanto che non saccheggiavi oggetti a caso. Pensi se ci fosse del seitan. Sì. Dai, che a te piace, Giulio. Non ho mai mangiato il seitan, se vuoi essere sincero. Ma no, dai, cucinato... Aspetta un attimo, però io sono andato di sopra, ma non c'era la possibilità di uscire. E quindi cosa facciamo, Giulio? Niente, torni giù e continuo a correre. Il problema è che non vedo... Di andare verso destra. Di vedere una porta? No, ma è chiusa. Sì, ma non... No, mi sa che è aperta. Però... Eh no, Giulio... Cosa no? È aperta. Guarda qui, Giulio. Optima mater. Cioè, se non fosse entrato qui dentro... Eh, 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 sull'estora. No, più che altro, mi serve anche... Qui mi sembra che non ci facciamo male, no? No, qui no. E ci serve per capire... Dove... Di andare dritto lì. Probabilmente qua dietro il muro ti puoi nascondere. Oh, merda. No. No, Giulio. Hai avuto un po' un po'... Eh, ma non c'era una alternativa. Un po' un po' di idea di merda. Ah, quindi non c'era una alternativa. Dai, veloce, cazzo! Sai che questo... Con questo abbiamo decretato la nostra fine, vero? Magari no, aspetta. Basta poco qui. Mi è basta poco di zucchero e la merda... Va giù? No, il diario di Heavy... Scusa, ma non me ne frega proprio... Un po' po'... Allora, cerchiamo di capire. Non mi sta andando via la salute, no? O ce la facciamo proprio a corsa, tipo Forrest Gump, dai. Cazzo fa? Scivola. Ce la facciamo, no? Ce la facciamo? Ho sentito un verso strano. Sì, ce l'ha fatto. Eccolo strano. Si è capito? Cioè, lui è arrivato sereno. Ah, che fatica. Ok, mi ha fatto un po' a corsa. Cioè, hai avuto un po' a corsa? No. Solo sentito in le scegliere. Cosa è questo 요 Eig? Si sembra che questo è che ho avuto prima. Tu hai fatto. Ti erodoni la visione di Erodin qui. Praticamente ci erod askasse di Ciri. Per te. Cosa stai? Sì, l'ha pensato? Do you know how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the hunt's grasp, then deposited you in the woods near Caer Morn. Did Aradin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? What would it have changed? Non sembra sicuro qui oltre, andiamo Questa La prossima passaggio, quando si apre? Probabilmente Ah boh, magari siamo arrivati a trovare Tirna Lia Palazzo di Vicere Gels Devi seguire lui eh? Eh ma volevo vedere se riuscivo Che palle che non posso correre È lento questo Lui si chiama Avalak Sì Guarda come cammina in maniera spavalla Vabbè, allora cammina solo tu che ti devo dire Cioè guardavo qui Dai! Hai capito? Ho cercato dei sempliciotti Meditazione ancora no Eh! Oh, chi è questo? E perché sono qui? Ed and the lion? No, no Cosa ha detto? No Do you like my new model? Something of Lara Doran About her, wouldn't you agree? Crivant? Her height perhaps Nothing more I see I've touched a tender spot So let's change the subject shall we? Care for a drink? What do you think? Do you like vodka? Ha! Oh, sì Keep forgetting you don't touch that filth Disgraceful as it is Hmm I must admit you appearing here Quite a surprise, Witcher Incidentally An interesting choice of allies Do you think Avalah is honest with you? Just curious Respondi Ehm... Si è onesto, no ma non importa Ma non importa But honesty is not a facet of your species So quit spewing bile Won't gain you anything I detect a shadow of impatience in your faces it seems So what brings you here? Tuo madre This will be interesting What? Better believe it This way please Witcher Geralt A true man of action Might I know where we're going? To the world of the Yen Shay Directly this time Let's go Before any guard show up E' il cazzo Picasso? Un cubista Ecco da dove è nata l'arte di Picasso Da The Witcher Tutto si... Ma tu lo sapevi? Si Boh... Io non avevo letto nella bibliografia di Picasso Che veniva dal mondo degli Elfi Eeeh... Io no Però, però... Aspetta aspetta che... Giulio C'è tempo Dimmi Descrivi la partita di ieri sera Cile-Argentina Descrivo Vai Parere tecnico Così Per me è una partita che mi aspettavo Mi ha mancato un po' di... Cile ha fatto la partita che doveva fare Come al solito Ci ho messo un po' troppi ricami Mi aveva tirato in porta Però ha fatto la partita che doveva fare Sia con il controllo del gioco Che con il pressing E altre cose L'Argentina è mancato un po' Guizzo finale E vabbè E come al solito Non aveva fatto una gran partita Alla luce C'è del fatto che hanno più talento degli altri Però a parte quello Poi quando arriva i rigori Può succedere di tutto Che ha vinto? Cile Quando sbagliano i rigori Boh Può succedere Può andare così Higuain Se ricorderà per un po' Anche questa Ma quindi Cos'è ha vinto la Coppa del mondo? Cile No, la Coppa America Sud America o Nord America? Sud Incredibile Prima volta che la vinco Pensa Il Cile avrà un Più dieci nel Nel suo GDP Per le coppie finte Che venderanno Grande Questo caricamento è E avrei dovuto tornare L'altro palazzo Pino dei palazzi? Esatto Minchia ragazzi Ma voi cosa ne pensate? Cioè Ci sarà qualche audace Che è ancora con noi A questo video Ma Che audace Allora voglio chiedere Ma vi piace? Lo trovate troppo corto Per gli standard GDR Penso che il gioco piaccia Però è un gioco da giocare Cioè è vero Praticamente è una lunghissima storia Quindi in realtà La nostra amica Oniromante Te la ricordi? Hmm Un luogo Un luogo Ma vorrei Un luogo E la ricordi Quattro Che è un luogo Il luogo Ma che è un luogo Ma rai Un luogo Mi piace Per rai Eroon La nuota Un luogo Eroon Con Eridin? Call for revolution and proclaim Avalach our new king? Don't flatter yourself. Defy Eridin. That's all you need to do. Very well. Have your oracle summoned dreams of my king's last moments. We shall all dream them. To make certain there are no misunderstandings. Why not? I can't believe it. I'm a good guy. I'm a good guy. I'm a good guy. I'm a good guy. He's a good guy. di prima. Tutti i elfi quindi? Tutti i luoghi. Tutti i cavaliere della caccia selvaggia sono tutti elfi, a parte quel brutto che non so che cosa ha fatto. Tutti i cavaliere della caccia selvaggia. Tutti i cavaliere della caccia selvaggia. Tutti i cavaliere della caccia.